Fincantieri, uno dei leader dell'industria italiana, ha fatto il suo esordio in piazza affari. Borsa Italiana gli consentirà di crescere ulteriormente e di consolidare la sua posizione sui mercati internazionali. Come ha ricordato l'amministratore delegato di Borsa, Raffaele Ierusalmi, il mercato azionario ha un ruolo centrale nel sostenere i piani di sviluppo delle imprese. Fincantieri è uno dei gruppi cantieristici più grandi al mondo. In fase di collocamento ha raccolto oltre 350 milioni di euro per una capitalizzazione di 1.320 milioni. Questa è la quarta quotazione su MTA, il mercato principale di Borsa, dall'inizio del 2014. Le altre erano state Anima SGR, Cervet e Finieco. Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più perché oggi abbiamo una platea di azionisti molto più grande ai quali dovremo dare e daremo delle risposte importanti per il futuro perché questa è un'azienda che ha tutti i presupposti per crescere ancora di più e per essere ancora e sempre di più la prima al mondo. Questa è una stagione positiva per le votazioni in piazza affari. Le operazioni sono state 14 su MTA e AIM. Da inizio anno in borsa sono stati raccolti 10 miliardi e mezzo di euro per le aziende italiane tra quotazioni e aumenti di capitale.